Presentata questa mattina nella serie di Confindustria, la quarantesima edizione del premio Guidarello per il giornalismo d'autore. La cerimonia, che si terrà domenica 13 novembre al Teatro Alighieri, vedrà tra i premiati, come da tradizione, grandi nomi del giornalismo italiano, nazionale e locale. Il Guidarello ad Onorem andrà a Luigi Giampaolino, il Guidarello alla Memoria sarà invece consegnato alla moglie di Andrea Zanzotto. Per la sezione radio-televisione sarà premiato uno dei volti più amati della televisione, la giornalista nonché conduttrice Simona Ventura. Per festeggiare il quarantesimo abbiamo proposto, d'accordo col Comitato dei Garanti, la pubblicazione di un volume che raccoglie gli ultimi vent'anni del premio Guidarello per il giornalismo d'autore relativo al nostro territorio. Questo segue un volume che aveva già raccolto le pubblicazioni dei premiati dei primi vent'anni ed è un'iniziativa, direi, bella e che permette di ripercorrere la storia di questo premio e il suo legame col territorio. Quest'anno la pubblicazione è sia cartacea che elettronica. La versione elettronica contiene l'intero periodo di 40 anni e quindi permetterà a tutti di approfondire o di rileggere qualche bella storia del nostro passato. Merito, legalità e cultura, fondamentali in occasione di questo premio? Sì, assolutamente. Questi sono i temi su cui noi vogliamo focalizzarci in questo momento. Il premio è già di per sé un concetto legato al merito e il merito è un valore molto importante per l'industria, per l'impresa e per tutta la società. Avere un contesto in cui chi è meritevole possa emergere e portare le sue qualità a beneficio di tutta la società è una cosa molto importante. Questo può avvenire, secondo il nostro pensiero, solo se anche la legalità è un principio condiviso e rafforzato. Per questo Confindustria, l'anno scorso, quest'anno e crediamo anche negli anni venturi, cercherà attraverso il premio del Guidarello Donorem di identificare figure legate, istituzionali, legate al principio di legalità. Infine, ritorniamo all'inizio, cioè alla cultura. La cultura è quel tessuto, è quella produzione intellettuale che consente alla legalità e al merito di manifestarsi. Tra i premiati di quest'anno, tanti nomi importantissimi per la cultura, per il giornalismo e in più anche un personaggio televisivo amato anche dal grande pubblico. Sì, Simona Ventura è il premiato scelto dalla giuria del giornalismo d'autore nazionale per la sezione televisiva. È un personaggio che tutti conoscono, che non ha bisogno di presentazioni. In questi anni il premio Guidarello ha portato a Ravenna grandi figure di cultura, sia di cultura, diciamo, di taglio intellettuale, sia di cultura di taglio popolare, credo con gradimento del pubblico e con visibilità per il premio. L'appuntamento di domenica sarà anticipato giovedì dalla premiazione della quinta edizione del premio Guidarello Giovani, reportage in azienda, al Palazzo dei Congressi. In questa quinta edizione l'adesione da parte delle scuole del territorio è stata totale. Il numero delle scuole partecipanti è il numero complessivo delle scuole della provincia di Ravenna, all'interno delle quali troviamo scuole statali e scuole paritarie, l'altro segmento. Il numero delle classi coinvolte è considerevole, visto che si aggira tra le 50 e le 60 classi. Come è stato detto anche dalla giuria, alto il valore degli elaborati. Noi ci auguriamo che possa essere sempre così e che in questo modo i giovani possano sempre di più avvicinarsi al mondo del lavoro.